Il cucchiaio Alcdia di Unicredit La prossima settimana la società di cacciatori di testa Egon Zender presenterà la lista con i cinque candidati alla presidenza di Unicredit selezionati. Questa lista però non verrà presentata in maniera ufficiale al Consiglio d'amministrazione, ma in maniera ufficiosa a Jean-Pierre Mustier. L'uomo che dovrà sostituire Giuseppe Vita dovrà essere italiano, dallo stile sobrio, ben inserito nel sistema bancario internazionale con poco più di 60 anni.